Queste immagini mostrano un gruppo di 135 migranti, fra cui moltissime donne e bambini, rimpatriati il 17 agosto da Tripoli, in Libia, verso il paese di provenienza, la Nigeria. I migranti erano stati soccorsi in mare mentre tentavano di raggiungere l'Europa e riportati in Libia. Husni Abu Ayyana è il capo della comunicazione dell'organo libico per la lotta all'immigrazione clandestina. Si tratta del rimpatrio volontario di 135 migranti clandestini soccorsi dalla Guardia Costiera a largo della Libia. Li abbiamo accolti nel centro elettrico al Sikka e ora si dirigono in aeroporto per il rimpatrio. La Nigeria è un paese in cui larghe zone sono in preda alla violenza, fra i terroristi di Boko Haram e le rappresaglie dell'esercito. Per i migranti nigeriani l'Italia è un paese d'elezione e molte sono donne, spesso destinate allo sfruttamento sessuale. Tuttavia, in base ai dati del 2015, solo il 5% dei nigeriani che riesce ad arrivare in Europa ottiene lo status di rifugiato. E in tutto solo il 25% ottiene una qualche forma di protezione internazionale.